Avrebbe dovuto smontare tutto lo stabilimento balneare alla fine della stagione estiva. Non l'ha fatto ed è finito nei guai con la giustizia. La Guardia Costiera ha posto sotto sequestro una superficie di 124 metri quadri sulla spiaggia di Villammare e denunciato il responsabile alla Procura della Repubblica di Lago Negro. L'operazione è stata portata a termine venerdì mattina nell'ambito dei controlli finalizzati a prevenire e punire gli illeciti di natura ambientale, in particolare rispetto alle norme in materia di concessioni demaniali marittime. I militari del capitano Amalia Mugavero hanno rinvenuto nel tratto più a nord del lungomare, di fronte all'ex asilo delle suore, mattonelle in calcestruzzo e una struttura in legno composta da travi infisse nella sabbia. Materiale che, secondo la Guardia Costiera, era stato utilizzato per la realizzazione del lido. Nel corso degli accertamenti è stato verificato che il concessionario non aveva provveduto a smontare tutta la struttura e a sgomberare i 124 metri quadri di spiaggia al termine della stagione estiva. Secondo la concessione, il suolo pubblico in questione poteva essere usato limitatamente al periodo compreso tra maggio e settembre scorsi, dopodiché doveva tornare alla libera fruizione. Tutte le opere poste sotto sequestro sono state affidate in custodia giudiziaria alla stessa persona ritenuta responsabile dei reati accertati.